Un cordiale saluto. Analisi generale con previsioni nazionali per lunedì 22 agosto 2022 e tendenza fino alle 72 ore a cura di Meteograd. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Una depressione tra Islanda e Gran Bretagna mantiene un teso getto zonale disteso sui paralleli che favorisce l'espansione del ramo orientale dell'Alta delle Azzorre verso i settori centro-occidentali europei con tempo stabile e gradevole. Contemporaneamente in sede basso-balcanica si isola una circolazione fresca ed instabile che tenderà ad avvicinarsi ad i settori ellenici e ionici portando instabilità pomeridiana in intensificazione. Previsioni meteo in area italiana per lunedì 22 agosto 2022. Nord. Stabile e soleggiato con tendenza ad un leggero aumento delle nubi sui settori più orientali specie nella seconda parte della giornata. Non è da escludersi qualche debole rovescio sulle Alpi di nord-est. Centro. Cieli sereni o poco nuvolosi con tendenza ad un aumento delle nubi sui settori adriatici ed in appennino. Possibili blandi ed isolati rovesci pomeridiani sui rilievi, soprattutto quelli umbro-laziali. Sud e isole. Aria fredda in quota proveniente dai Balcani alimenta instabilità pomeridiana sui settori interni peninsulari e sulla Sicilia centro-orientale accompagnata da temporali sparsi. Qualche fenomeno potrebbe sconfinare fino sulle coste. Temperature massime in diminuzione sulle regioni adriatiche e dal sud per afflusso di aria fresca di estrazione balcanica. Minime nel complesso stazionarie su tutte le zone. Ventilazione tra debole e moderata da maestrale con rinforzi sui settori adriatico-ionici e tra le due isole maggiori. Mari da poco mossi sui settori settentrionali fino a mossi altrove. Localmente molto mossi sulle isole. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale estesa fino alle 72 ore. La parte orientale dell'Alta delle Azzorre interessa il nord ed il centro nord mentre al sud e Sicilia persiste un flusso fresco ed instabile di matrice balcanica che scaverà un blando minimo depressionario in sede ionica. Su queste zone, specie martedì, attesa marcata instabilità con temporali anche diffusi ed in sconfinamento fino sulle coste. Temperature gradevoli con locali diminuzioni al sud dove risulteranno inferiori alle medie. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.